A metà luglio la gente di Palermo che purtroppo non hanno neanche i soldi per andare in vacanza si accampavano sulla spiaggia e stavano fino a Ferragosto e noi eravamo costretti a stare in mezzo alle feci e a tutto il resto. Comunque da due anni a questa parte questa cosa è diminuita, diciamo che sia soltanto nel periodo di Ferragosto e basta.